Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a riprendere il filone dei video precedenti dove per l'appunto abbiamo parlato dei nuovi pokemon di pokemon scarlato e violetto scoperti proprio grazie ai vari leaks e screenshot di gioco in circolazione. Quindi essendo questi leaks non confermati da fonti ufficiali prendete queste informazioni con le pinze. In ogni caso come sempre anche in questo video utilizzeremo sia le varie informazioni riportate dal sito web di Machio e J-Roses sia gli artworks creati da vari artisti che citerò nella descrizione che si basano su tutti i leaks del momento. Prima di iniziare con il video di oggi vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube, a lasciare un mi piace al video e ad attivare la campanella delle notifiche in modo tale da non perdervi i miei prossimi video. Bene ora direi che possiamo finalmente cominciare. Il primo pokemon con cui voglio iniziare è in realtà già stato tra virgolette rivelato nell'ultimo trailer uscito pochi giorni fa. Ebbene sì la creatura in questione è proprio quella che vedete nel muso della star mobile, la macchina utilizzata dai capi del team star. Tra l'altro se vi va vi lascio nelle schede il video che approfondisce tutto quello che abbiamo visto in quel trailer giusto per darvi ulteriori informazioni. Comunque sia il pokemon denominato dal sito di Machio e J-Roses come Engine sarebbe di tipo veleno e acciaio e stando a quanto riportato dai leaker avrebbe addirittura una pre-evoluzione che vedete rappresentata qui a lato sempre dello stesso tipo dell'evoluzione finale. Non si sa però se questo pokemon si possa staccare dal veicolo o se rimanga lì attaccato. Il prossimo nuovo pokemon sarebbe basato su un cespuglio rotolante, quelli che si vedono spesso nei film western per capirci, con la doppia combinazione di tipi erba e spettro. Il perché del tipo erba è facilmente intuibile dato che per l'appunto si tratta di un cespuglio secco, mentre il tipo spettro potrebbe essere dovuto al fatto che al suo interno si annidino alcune creature dall'aspetto spaventoso o perché quegli occhi rossi sono gli occhi stessi del pokemon. E questa secondo me è la teoria più probabile visto che sembra possedere anche due zampe su entrambi i lati. Ma fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate voi di questo pokemon. Il terzo nuovo pokemon è piuttosto semplice poiché si basa su un comunissimo lombrico. Prima di passare all'artwork disegnato dagli artisti vi mostro una piccola bozza disegnata dai leaker che rappresenterebbe il nuovo pokemon. Come potete vedere anche voi il design è molto basilare ma l'artista l'ha rappresentato in una veste del tutto nuova facendolo diventare un grande lombrico che sbuca dalla terra. Stando alle informazioni dei leaker il nuovo pokemon possederebbe la combinazione di tipi terra e acciaio. Forse è proprio l'ingrossatura che si vede nel ventre ad essere composta di materiale metallico. Staremo a vedere. Passiamo ora al quarto nuovo pokemon interamente basato su sushi. La creatura in questione rappresentata in questo modo dagli artisti fa parte di un duo assieme ad un altro pokemon denominato dai leaker come sushi master. di cui purtroppo non possediamo ancora una rappresentazione ma ci basta sapere che è basato su un pesce gatto ed è di tipo acqua. Comunque sia il nuovo pokemon basato su sushi viene descritto dai leaker come un boss interno del gioco. Chissà forse potrebbe essere un pokemon dominante come clowth il pokemon agguato che protegge le spezie nascoste. Oltre a questa informazione ne possediamo un'altra che ci anticipa la sua tipologia. Infatti il nuovo pokemon possederà il doppio tipo drago e acqua. Il quinto nuovo pokemon denominato dal sito Seagull viene descritto dal noto leaker Riddler Q come un pokemon simile ad un gabbiano con la combinazione di tipi volante ed elettro. Il suo aspetto però potrebbe ingannarci visto che viene detto dal leaker che è molto feroce. Oltre a questo sappiamo che possederà anche un'evoluzione sempre della medesima combinazione di tipi. L'evoluzione è molto carina a mio avviso non so perché ma mi ricordo molto un Bravieri. Parliamo ora del sesto nuovo pokemon basato sulla serie televisiva giapponese Kamen Rider o meglio ai personaggi protagonisti della serie. La forma base del pokemon infatti lo ricorda molto dato che si basa su una cavalletta che tra l'altro omaggia l'eroe della serie che assume proprio l'aspetto dell'insetto. La tipologia di questa forma è ovviamente quella con leotero. Questo pokemon però possederebbe anche un'evoluzione sempre denominata Kamen Rider. Come potete vedere dall'immagine qui a lato l'aspetto di insetto sarebbe stato mantenuto ma a differenza della forma base la creatura sarebbe divenuta più una specie di cyborg il che omaggia nuovamente la serie televisiva. Dato che l'organizzazione denominata Shocker recluta i suoi adepti rappendo e di conseguenza trasformando i malcapitati in mostruosi cyborg dall'aspetto di piante o animali. Oppure una delle vittime dell'organizzazione della serie potrebbe aver assunto la forma Kamen Rider 2. Quindi potrebbe essere questo il suo caso anche se lo vedo difficilmente realizzabile all'interno di pokemon scarlato e violetto. Prima di concludere il video ci tenevo a darvi un'informazione sui due nuovi pokemon che abbiamo conosciuto per la prima volta grazie al precedente trailer. I pokemon in questione sono proprio Armarouge e Serulage che possederanno entrambe una forma base in comune che si evolverà poi nel pokemon esclusivo del gioco che avete scelto di acquistare. Anche in questo caso non abbiamo però un artwork rappresentativo della creatura ma sappiamo solamente che possederà il tipo fuoco. E niente ragazzi anche il video di oggi termina qui. Fatemi sapere cosa ne pensate e quale tra questi pokemon vi è piaciuto di più in assoluto. Io personalmente ho amato tantissimo il nuovo pokemon ufficiale che si trova attaccato alla star mobile. In fin dei conti non avevano mai creato un pokemon basato su un motore quindi secondo me è molto originale e mi incuriosisce tantissimo la sua funzionalità all'interno di questi giochi. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato tutto il video fino alla fine. Io vi aspetto ad un prossimo appuntamento, un saluto e alla prossima! Ciao!